Ultimamente si sente sempre più spesso a parlare di sicurezza informatica, quindi virus, attacchi informatici e quant'altro. Sappiamo tutti molto bene che il 90% di essi avvengono mediante l'utilizzo, l'attacco verso la posta elettronica di qualcuno. Oggi vi voglio fare vedere il servizio che mette a disposizione Google, chiamato Google Workspace, prima precedentemente chiamato Google G Suite, che vi permetterà di utilizzare Gmail e tutta la suite di Google, quindi Drive, Keep, Meet e quant'altro. Ovviamente il servizio ha un costo, ci sono diversi piani di abbonamento che ora vi mostro, ma è un servizio veramente efficace. Perché? Perché ha un filtro antivirus, antispam molto, ma molto potente e quindi potrete stare abbastanza tranquilli per quello che riguarda gli attacchi di phishing, spam e quant'altro. Allora, questi sono i piani di abbonamento. Come vedete, si parte dal Business Starter, che costa 4,68€ al mese, in realtà costa 5,20€, ma viene scontato per un periodo che, se non ricordo male, sono 12 mesi, se non superate un certo numero di utenti. Oppure si passa al Business Standard, che è quello magari, credo, più utilizzato, che vi permette di avere 2TB di spazio di archiviazione sul cloud per ogni utente. Ovviamente per spazio si intende Gmail più Drive. Poi vi offre la possibilità di effettuare la registrazione su Meet e se andate a vedere nei dettagli, poi troverete le differenze più nel dettaglio. Attenzione, una cosa voglio precisare. Nella versione Starter, voi non potete andare a selezionare la localizzazione dei server Google, quindi la vostra posta potrebbe finire in server americani e in server europei. Nella versione Standard potete decidere se far confluire tutta la posta su server solo europei. Questo, visto quello che sta succedendo recentemente con il garante privacy, forse potrebbe essere un problema, quindi magari informatevi prima per il vostro cliente o per voi, se il servizio è per voi. Detto questo, una volta effettuato quindi l'abbonamento e inserito un metodo di pagamento che può essere un IBAN, una carta di credito o quello che preferite, avrete accesso a questa console di amministrazione. La prima cosa da fare è sicuramente andare a creare degli utenti, quindi i veri e propri indirizzi email. Andiamo quindi in diretto, utenti e qui potremo andare ad aggiungere un nuovo utente. Quindi andiamo ad aggiungere un nuovo utente, lui mi chiederà il nome, cognome, l'email e sa eventuali email alternative. Una volta creato l'utente genera una password standard oppure ve la fa già impostare, con la possibilità quindi di farla cambiare all'utente al primo login e possiamo inserirli anche in modo collettivo, quindi da un file per velocizzare la cosa nel caso in cui l'azienda fosse molto grande. In gruppi possiamo andare a specificare un'email collettiva, quindi se abbiamo un indirizzo ufficio-mariorossi.com vogliamo che chi scriva a quell'indirizzo email, le email finiscano non solo ad un utente ma a più utenti. Una volta effettuata questa operazione di base, siamo pronti ad importare la posta dal nostro vecchio provider a Google Workspace. Come si fa? Abbiamo due strade, la prima è andare qui in migrazione dei dati e lui ci chiederà di configurare la migrazione dei dati utilizzando un'origine che può essere Google Workspace, Gmail, i vari exchange di diversi anni, Office 365 o un altro server emap, che può essere un qualsiasi provider online ma perché no anche un vostro server mail. Andiamo, ora metto per esempio Gmail, per non stare a fare configurazioni, andiamo avanti e lui mi chiede, vuoi importare solo l'ultimo anno, gli ultimi sei mesi o una data personalizzata, se non volete importare tutta la posta dal vecchio operatore. Le opzioni di migrazione, quindi se volete inserire, includere anche la posta eliminata o indesiderata o se volete escludere determinate cartelle. Andiamo in selezione utenti, a questo punto lui vorrà avere una sorta di collegamento tra il vecchio utente e il nuovo utente, che non necessariamente deve essere uguale, nel senso, Se il vecchio indirizzo era m.rossi-pincopallino.com e la nuova email vogliamo che sia mario.r-nomedominio.com, noi potremmo tranquillamente farlo. Come? Cliccando su aggiungi utente, lui ci chiede l'email di origine e l'email di Google Workspace su cui vorremmo importare i dati. Cliccando avvia, lui inizierà a migrare tutta la posta elettronica. Questo è vero in parte, nel senso che questa procedura funziona se stiamo importando da un vecchio Gmail, l'operazione è abbastanza semplice. Se stiamo già importando da un server mail locale, non è proprio così scontato che vada a buon fine. Nel senso, non avete un log, o meglio ce l'avete, ma è un semplicissimo report che vi dice, sì, ok, ho finito, no, non ho finito, quindi non c'è un vero e proprio log, dovrete chiedere all'assistenza, non è semplice. Esiste un programma che mette a disposizione Google che si chiama Google Workspace Migration for Max.Exchange e ci permette di andare a specificare, ad importare la posta da altri provider, ma anche da un server mail interno. Vedete quanti ce ne sono? Posso andare a importare da Zimbra, da altri, Dov, Cot, eccetera. Andiamo a selezionare, per esempio, Adari Map Server. Come vedete, mi chiede l'host name o l'IP, perché se io ho un server mail interno, potrei tranquillamente installarlo, questo software, su un computer interno alla LAN, e andare a effettuare le migrazioni in maniera molto più veloce tramite un IP privato. Quindi, andiamo a specificare, per esempio, dei dati, andiamo avanti. A questo punto lui ci chiederà, ok, dimmi su quale dominio stai migrando i tuoi dati, quindi il nome dominio che abbiamo registrato su Google Workspace, un utente amministrativo di Google Workspace, quindi l'utente che ha accesso alla console che vedevamo prima, e un account credential file. Cos'è questo account credential file? È un file che genererete voi dalla console, mediante la quale Google Workspace identificherà la vostra utenza amministrativa. Come si fa a crearlo? Se seguiamo questo link, verremo indirizzati a questa pagina, e da qui potrete andare a creare questo file. Prima, negli anni passati, andava fatto manualmente, adesso c'è addirittura uno scritto automatico, quindi se io clicco qui su Cloud Shell, mi si aprirà una finestra, un terminale direttamente da web, basta incollare questo comando, vi scaricherà un file .json che voi andrete ad importare, a selezionare in questo campo. Fatto questo, andiamo avanti, lui ci chiederà come per la migrazione dei dati da web, se vogliamo trasferire tutte le mail solo in determinato periodo, se abboniamo nelle opzioni avanzate, andare a migrare l'indesierata, i messaggi cancellati, quanti utenti migrare in contemporanea, e un file di account di migrate. Ecco, mi riallaccio al discorso di prima, se noi andiamo ad aprire Notepad, e andiamo a creare un file da dare in pasto a Google Workspace Migration, possiamo crearlo con questa formattazione, per esempio Mario Rossi, ok, che non necessariamente è l'utente di origine, perché parecchi server mail non permettono di avere un utente in origine autenticato con Mario Rossi chiocciola il dominio, ma semplicemente Mario Rossi, quindi in questo caso noi dalla migrazione web non riusciremmo ad effettuare la migrazione. In questo modo invece sì, basta specificarlo con questo formato, nome utente, quindi di autenticazione sul vecchio provider, cancelletto la password, quindi la password del vecchio provider, virgola l'email di destinazione in Google Workspace. Ok, idem per i vari altri account. Una volta salvato il file come CSV, lo diamo in pasto a Google Workspace e lui saprà quali account andare a migrare, con la differenza che, prima cosa, è molto più efficace, molto più veloce, molto più funzionale. Seconda cosa, vi crea un log molto dettagliato, quindi riuscite a capire se ci sono problemi nel leggere da servire di origine, credenziali errate, errori di comunicazione e quant'altro. Quindi andiamo avanti e lui inizierà la migrazione. Lo possiamo rilanciare n volte in quanto ogni volta non ricomincerà da capo a fare la migrazione, come vedete migrate all data, ma ricomincerà da dove ha terminato in precedenza, quindi lo possiamo fare in più step successivi. Quindi se iniziamo a migrare un cliente, non necessariamente dobbiamo migrarlo tutto in un giorno, ma magari trasferiamo tutta la posta, poi lui dice ok, oggi voglio migrare, la sera rilanciate per l'ennesima volta il tool e la notte magari cambiate i record MX. Per l'appunto, una volta terminata quindi questa procedura, dovrete andare a cambiare i record MX nel vostro provider dove avete acquistato il dominio, non necessariamente anche il servizio di posta elettronica, ma dove avete registrato il dominio. Quindi se avete un dominio, pincopallino.com dovrete andare nel pannello di gestione DNS del dominio e andare a puntare i record MX verso i server di Google. Se non sapete come si fa, non l'avete mai fatto, magari me lo scrivete nei commenti, ci faccio magari uno short o un video brevissimo in cui vi mostro come si fa, se vi interessa. Fatto questo, la nostra posta inizierà a essere confluita verso Google Workspace. Potrete quindi utilizzare un client di posta, che può essere Thunderbird, Outlook o qualsiasi altro, oppure direttamente dalla webmail. Ma come facciamo ad andare nella webmail? In Gmail, quindi quando andremo a cliccare Gmail, in realtà utilizzeremo Gmail, ma con il nostro dominio di posta elettronica. Quindi chiocciolapincopallino.com Nella console di amministratore avete la possibilità di andare, ad esempio, vi faccio vedere alcune funzionalità che sicuramente vi serviranno. In applicazioni, Google Workspace, Gmail, potrete andare in impostazione utente e andare a abilitare la conferma di lettura dei messaggi. Quindi andando qui potete andare a consentire l'invio di conferma di lettura da tutti gli utenti o solo da parte di essi specificandoli in questo campo. Perché di default non permette l'invio della conferma di lettura. Io sto parlando ovviamente dalla webmail, quindi da Gmail, dal client Gmail web. Quindi da qui la potete andare ad abilitare. Nella sezione sicurezza potete andare a forzare l'OTP, quindi la verifica in due passaggi nei vari account. Potete andare a consentire o meno le app meno sicure, eccetera, eccetera. Nella sezione regole, invece, potrete andare a definire come l'amministratore di sistema dovrà essere notificato di eventuali eventi. Quindi c'è un phishing segnalato, c'è stata modificata una password, un utente sospetto ha inviato spam, eccetera, eccetera. Vi arriverà un'email in cui avrete questo evento. Ad esempio, viene ricevuto un malware sulla posta elettronica, l'amministratore viene notificato di questo evento. Nella console avrete migliaia di report di come vengono utilizzate le caselle, le email inviate, lo spam. Cioè, in generale c'è parecchia roba. È molto, molto intuitivo, quindi inutile che vi sto a spiegare nel dettaglio. Su fatturazione avrete possibilità di effettuare l'aggrade o l'ungrade dell'account, cambiare il metodo di pagamento e visionare le fatture. Come vi dicevo prima, Google Workspace è un servizio molto, ma molto efficace. Ve lo consiglio assolutamente. Il costo non è poi così proibitivo. Se avete 5-6 account, parliamo di 25 euro al mese di servizio di posta. Ok, molto più costoso rispetto ad avere un provider che può essere, che ne so, Aruba, che con 30 euro l'anno avete il servizio. Sì, ma non vi dà nulla praticamente. Vi consiglio comunque di abbinarlo ovviamente alla protezione antivirus, anche se quella integrata in Google Workspace è fenomenale. Vi consiglio Nod, per chi non sapesse cosa è Nod, vi lascio un video qui sopra. Per questo video è tutto, se avete dubbi scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto metti un mi piace e mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina. Grazie, alla prossima.